Peggy 18 Due domande veloci. Perché lo stai facendo e perché devo partire io? La gente deve sapere cosa è successo. Ah, bel trucchetto. Ringrazia la Ebon per questo. Allora, quando hai capito che a Redfall la situazione era brutta? Beh, ero andata con il mio ex al cinema. In amicizia. Sì, è complicato. Laila? Oh, cazzo. Prendiamola! Lasciami andare! Laila, scappala! No, Jason! È nostra! Dopodiché mi sono nascosta in facoltà finché non ho provato a raggiungere il traghetto. E Jason? Pazienta, Dev. Lo scoprirai. Comunque, bella intervista. Prepariamoci! Ma da dove sono sbucati? Forza! Ti ho impugno. Ancora uno. Ma da dove sono. E il ritiro. Ancora uno. Questa è qualcosa di piùمi, da dove si parlava.